Eleonora Pedron ha scritto un libro, L'ho fatto per te, in cui racconta la sua vita. La 39enne, a 9 anni, perse la sorella maggiore di 6, Nives, in un incidente d'auto guidava la madre. A 20 anni, perse il padre Adriano, guidava lui, all'ore dell'Eleonora gli sedeva accanto. Stavano rientrando a casa nel Padovano, da Cologna o Monzese, dove erano stati per un provino per fare la velina a strisciare la notizia. Lei si ruppe il bacino e la spalla sinistra, oltre al trauma cranico. Lui entrò in come, non si svegliò più. Era la fine di maggio del 2002, quattro mesi dopo Eleonora diventò Miss Italia. Quella del padre è una mancanza enorme per la Pedron, un'assenza che ancora la fa arrabbiare. Eleonora, al Corriere della Sera, confessa di portare sempre con sé una maglia arancione appartenuta proprio al padre. Sopra c'è scritto Miami, ma io leggo Miami, di vela. Ogni tanto l'annoso, anche se il suo odore non c'è più, ma io lo sento lo stesso. Grazie!